Nelle scuole di scrittura si insegna che per descrivere un periodo storico bisogna farlo vivere attraverso i particolari quotidiani, quelli che lo fanno riconoscere e lo fanno ricordare, come la musica per esempio, i film, le auto, la moda, quanto costa una tazzina di caffè. Allora immaginiamo che ci sia un'auto, un'alfetta, che sta passando davanti al volto in bianco e nero di Robert De Niro che si punta una pistola alla tempia nel manifesto del cacciatore, unica nota di colore, la striscia rossa che porta attorno alla testa. Dentro l'auto c'è un autoradio, niente frontalino estraibile, niente lettore cd, non esistevano ancora. Un autoradio a cassette sintonizzata sul ritmo latineggiante di Please Don't Let Me Be Misunderstood, dei Sante Smeralda. Poi la musica finisce, la voce dall'accento romano di un dj annuncia la richiesta di una dedica, da Massimo a Ninetta sua, e parte la voce roca di Amanda Lear in Queen of Chinatown. A chi guida non piace, via la radio e dentro una cassetta, sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti. Poi l'alfetta imbocca una strada costeggiata da palazzoni alti, dieci piani, grigi e anonimi. Via H. Larenzia, c'è scritto sulla targa all'angolo che dà il nome alla strada. E' il 1978 e siamo a Roma. E' il 7 gennaio e sono le 6 di sera. Siamo in pieno inverno, è buio e fa anche freddo. Il numero 28 di via H. Larenzia è una piccola porticina blindata, sotto uno stemma tricolore disegnato sul muro, con accanto manifesti e scritte del Movimento Sociale Italiano. Dentro c'è una sede dell'MSI molto attiva nel quartiere, il quartiere tuscolano, e c'è appena stata una riunione del fronte della gioventù, ma non c'è quasi più nessuno, perché i ragazzi del fronte sono andati in piazza di sorgimento ad attaccare i manifesti e distribuire volantini. Nelle stanze del numero 28 rimangono in 5, che si attardano a chiudere la sezione. Sono ragazzi giovanissimi. Ce n'è uno, che si chiama Franco Bigonzetti, che ha 19 anni e si è iscritto al primo anno di medicina. E ce n'è un altro, Francesco Ciavatta, che ne ha 18 e fa ancora il quarto anno di liceo. Mettono a posto, spengono le luci, prendono le chiavi della porta blindata per chiudere la sezione e andare anche loro in piazza di sorgimento, dove sono gli altri. Franco esce per primo e si ferma sul marciapiede, sotto i palazzoni di via H a Larenzia. Poi arriva anche Francesco e c'è anche un terzo ragazzo, ancora sulla porta. Nessuno si accorge di un gruppo di ragazzi che sbuca dall'angolo di via Evandro. Sono cinque o sei. Sono fermi all'angolo, ma è buio e nessuno li vede. Nessuno si è accorto che tra loro ce n'è uno con una pistola mitragliatrice Scorpio, che alza la canna della mitraglietta e la punta sui ragazzi fermi accanto alla porta blindata. Fermiamoci qui, cambiamo scena. L'alfetta adesso passa davanti ad un manifesto di Bruce Lee a torso nudo, che impugna due bastoni in posizione di guardia davanti a un sole giallo. Dalle casse stereo arriva la voce dello speaker del giornale radio. Ci sono stati i funerali degli agenti della scorta del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, rapito due giorni prima. E le Brigate Rosse hanno fatto trovare il comunicato numero uno. Impressione profonda, ha provocato la strage. Chi guida non ha voglia di sentire. Primo pulsante di sintonia memorizzata, non c'è niente. Secondo pulsante, le ultime note di Samarkanda, di Vecchioni. Poi la voce con accento milanese di un DJ e quella in falsetto di Alan Sorrenti, che canta Figli delle Stelle. Dentro una cassetta, amarsi un po', di Battisti. L'alfetta svolta in una stradina mal illuminata, stretta tra case e dalle finestre sbarrate, dietro cui si intravedono le luci delle televisioni accese sul telegiornale delle venti. Via Mancinelli, dice una targa sopra un'edicola che fa angolo. L'alfetta tira dritto, passa accanto ad una donna con due ragazzine e passa vicino a due ragazzi che stanno camminando, l'uno a fianco all'altro. È ancora il 1978, ma siamo a Milano ed è il 18 marzo. Fa freddo, quel freddo umido e nebbioso che fa da quelle parti, e i due ragazzi camminano affondando le mani nelle tasche dei cappotti. Hanno tutti e due 18 anni e abitano da quelle parti, nel quartiere Casoretto, un quartiere popolare alla periferia di Milano. Uno si chiama Fausto Tinelli, fa il liceo artistico a Brera e si interessa di tante cose, legge moltissimo, vuole fare filosofia all'università. L'altro si chiama Lorenzo Iannucci, ma tutti lo chiamano Iaio e anche lui si interessa di tante cose, ma non ama studiare, ha lasciato la scuola e lavora come apprendista presso un restauratore di mobili. Sono molto diversi Fausto e Iaio. Fausto è un po' introverso, silenzioso, molto sensibile. Iaio invece è sempre allegro, un tipo esoberante, uno a cui viene spontaneo a star bene con la gente. Frequentano un centro sociale di Milano, il Leon Cavallo, e fanno parte del movimento studentesco, come tanti in quegli anni. Stanno andando a cena dalla mamma di Fausto e sono in ritardo, è Iaio che è arrivato tardi, come sempre. Sono molto amici Fausto e Iaio. Stanno andando verso il risotto della signora Martinelli e parlano. Non si accorgono che in via Mancinelli ci sono tre persone, tre giovani, che si stanno avvicinando. Uno ha in mano un sacchetto di plastica che avvolge qualcosa. È una pistola. La punta su Fausto e Iaio. Fermiamoci ancora. Altra scena. L'auto adesso è una 128, ma niente musica, perché è tardi. Sono le tre di notte e quando passa sotto la targhetta di via Bernardo Bibbiena lo fa in silenzio. È il 1973 e siamo a Roma, a Prima Valle, una borgata popolare. In una palazzina di via Bibbiena, al terzo piano, interno 5, vive la famiglia Mattei. Il padre Mario, segretario della locale sezione dell'MSI, sua moglie Anna Maria e i loro sei figli. Stanno dormendo tutti perché sono le tre di notte, ma all'improvviso la signora Anna Maria si sveglia perché ha sentito qualcosa di strano, un simbilo forte, come qualcosa che è sfiata. Si svegliano tutti perché c'è un rumore, un crepitio forte. C'è il fuoco in casa. Il signor Mario corre verso la porta, ma scivola perché il pavimento è unto. È la benzina, che qualcuno ha versato sotto la porta e che è scivolata fin dentro casa. Le fiamme hanno invaso il pianerottolo e si stanno mangiando la porta. Il signor Mario riesce ad aprirla, si ustiona, si ferisce gravemente, ma riesce a far uscire la moglie e i due figli più piccoli. Intanto però è successo qualcosa, è successo un guaio. Gli altri due figli che si trovano in camera da letto, Virgilio e Stefano, hanno aperto la finestra per chiamare aiuto e la corrente d'aria con la porta ha fatto da tirante come in un camino e in un attimo la casa è invasa dalle fiamme. Il signor Mario cerca di spegnerle con un estintore, ma non ci riesce. Allora scende sul terrazzo del piano di sotto e fa uscire altri due figli. Ma da Stefano e Virgilio, intrappolati in camera da letto, non riesce ad arrivarci. La gente che è uscita dalla palazzina o è arrivata dalle altre, in pigiama e in ciabatte, lo vede Virgilio. È lassù, affacciato alla finestra del terzo piano e urla. Sotto di lui, attaccato a una sua gamba, c'è il fratello Stefano. Dietro di loro c'è un muro di fiamme che sta avanzando. La gente gli urla di buttarsi di sotto, ma Virgilio non ce la fa. Sta là, affacciato alla finestra e urla. Quando arrivano i pompieri è troppo tardi. Virgilio Mattei aveva 22 anni, Stefano ne aveva 8. Non sono gli unici a morire in quel 1973. Non sono gli unici a morire in quegli anni, gli anni 70. Sono tanti ad essere ammazzati, picchiati, feriti o bruciati. Così come sono tanti a sparare, spaccare teste, tirare bottiglie Molotov o mettere bombe. Sono in tanti, in quegli anni, ad avere paura. Erano delle case di Roma che erano così soggette ad attentati che dietro le porte veniva o messi i sacchi di sabbia o scavata una buca chiusa con una grada per accogliere la benzina degli attentati. Vicino a dove noi stiamo registrando abitava Tommaso Manzo, uno dei primi gambizzati di prima linea a Roma. Ogni sera, quando rientrava in casa, doveva telefonare al padre, un vecchio ufficiale in pensione dell'esercito, che gli copriva il rientro a casa con il fucile dalla finestra. Io purtroppo abitavo a Cancello, accanto, dal Movimento Sociale Balduina. Da circa un anno non tornavo a casa perché la sera o facevo, o litigavo tutte le sere e poi a un certo punto hanno cominciato a venire dentro casa quando io non ero presente. Si sono presentati pure da mia madre e allora ho deciso per evitare guai alla mia famiglia di non tornare a casa. Come è successo? Che cosa è successo? Gli anni 70 non sono soltanto questo. Sono successe tante cose in quegli anni. Sono anni importanti e ricchi di avvenimenti positivi, ma se si leggono le cronache dei giornali non passa un giorno senza che non sia successo una cosa. La gente che fa politica attiva in quegli anni è tanta, ma spesso lo fa a suo rischio pericolo. In cortei che possono essere attaccati dalla polizia o da avversari politici, con gente che arriva all'improvviso armata di spranghe, manganelli e bastoni e si mette a picchiare. Oppure tornando a casa da una manifestazione, inseguiti e massacrati per aver attraversato la zona sbagliata. O mentre si sta attaccando un manifesto, ammazzati a colpi di pistola sparati da un'auto in corsa. A volte basta rifiutare un volantino o non accettarlo con sufficiente entusiasmo per prendersi una coltellata e lasciarci la pelle. In Italia si moriva per la politica, si moriva di politica, anche prima degli anni 70. L'Italia è ancora un paese arretrato, uscito da non molti anni da una guerra disastrosa. Una democrazia giovane, con un'economia in crescita. Un paese che chiede riforme e modernizzazione. Le spinte più forti al cambiamento vengono dagli studenti dell'università, da parte della Chiesa riformata dal Concilio Vaticano II, da una nuova piccola imprenditoria, dagli operai delle fabbriche del Nord. C'è il movimento operaio, il movimento contadino, il movimento studentesco e poi più avanti anche i colletti bianchi, i poliziotti e i pensionati e le donne. Ma l'Italia è ancora un paese legato alla tradizione, con vecchi interessi, con una morale ancora piuttosto rigida e con una politica interna fortemente condizionata dalla posizione internazionale nell'Alleanza Atlantica. Non è facile cambiare. Ci sono scontri di piazza. Soltanto dal 1947 al 1954 i morti sono 145 e i feriti più di 5.000. A sparare sono le forze dell'ordine e non soltanto negli anni 50. Come a Reggio Emilia nel luglio del 1960, quando la polizia carica una manifestazione sindacale e poi si mette a sparare ammazzando cinque operai, i morti di Reggio Emilia. O come a Davola, in provincia di Siracusa, nel dicembre del 1968, quando la polizia carica una manifestazione di operai e di braccianti a colpi di lacrimogeni. Ma il vento spinge il gas verso i poliziotti, che perdono la testa e cominciano a sparare l'impazzata, lasciando sul terreno 3 kg di bossoli, 2 morti e 48 feriti. O come a Battipaglia, nell'aprile del 69, 2 morti e decine di feriti tra i manifestanti che protestano per la chiusura di un tabacchificio. Ci sono scontri anche all'università, tra gli studenti e le forze dell'ordine. Dal 1966 il ministro dell'interno Paolo Emilio Taviani ha emanato una circolare riservatissima che autorizza l'intervento della polizia nel caso di occupazione delle facoltà, anche senza la richiesta del rettore. I prefetti intervengono alla minima agitazione. Le forze dell'ordine sgombrano a colpi di lacrimogeni e manganello e la tensione cresce. E poi c'è Valle Giulia. Il primo marzo 1968 un corteo di 7.000 studenti parte da Piazza di Spagna, a Roma, e si dirige verso la Facoltà di Architettura, che sta a Valle Giulia, dietro Villa Borghese. E si trova davanti uno schieramento di carabinieri e poliziotti. Parte un lancio di uova e di ortaggi da parte degli studenti. Le forze dell'ordine caricano e si scatene una vera e propria battaglia che dura diverse ore, provocando 211 feriti soprattutto tra le forze dell'ordine, che non si aspettavano una reazione così massiccia. Ma all'università gli scontri non sono soltanto tra studenti e polizia. Ce ne sono anche tra destra e sinistra, tra i giovani del movimento studentesco, che sono più numerosi, e quelli di destra, del FUAN e degli altri gruppi, che sono meglio organizzati e più aggressivi. È in uno di questi che il 27 aprile 1966 muore Paolo Rossi. Ci sono le elezioni per la rappresentanza studentesca all'Università La Sapienza di Roma. Un gruppo di neofascisti attacca il seggio elettorale nella facoltà di lettere. Ci sono scontri. Paolo Rossi, uno studente socialista, vola giù da un moretto, finisce all'ospedale, resta in agonia tutta la notte e muore. Ma a Valle Giulia, contro la polizia, assieme ai giovani del movimento studentesco, ci sono anche alcuni giovani appartenenti ad organizzazioni di destra, come la Caravella, Primola Goliardica o anche Avanguardia Nazionale. Ma è un'alleanza che dura poco. Pochi giorni dopo, il 16 marzo, il segretario del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante, si presenta all'Università con 200 militanti dell'MSI. Lo scopo è quello di riaffermare la presenza dell'estrema destra all'Università e di rompere quella strana alleanza tra rossi e neri contro il sistema. È un'operazione che riesce. Il nostro corso è un'operazione che riesce a rossi e rossi e rossi e rossi. Gli scontri sono durissimi. I neofascisti attaccano, vengono respinti e sono costretti a chiudersi nella facoltà di legge, dove cominciano a tirare di tutto dalle finestre. Dovranno uscire dall'Università dentro i blindati della polizia che sono andati a prenderli. C'è un'evoluzione di una violenza che inizialmente è una violenza definita come violenza difensiva. Tipico episodio Valle Giulia a Roma, dove si dice che gli studenti confrontati con la carica della polizia si difendono. Inizia con una violenza di piazza che non è nuova, perché era tipico anche della storia del movimento operaio, quello di avere vissuto interazioni violente in piazza con la polizia. E la dinamica è quella della reazione in parte spontanea della piazza, in parte però anche sostenuta da processi organizzativi che si sviluppano. I primi servizi d'ordine che magari inizialmente sono costruiti per la manifestazione specifica e sono costituiti da persone che sono considerate come più capaci di mantenere l'ordine nelle file della protesta. Ci sono le contestazioni del 68, ci sono gli scioperi e le manifestazioni dell'autunno caldo del 69, ci sono gli scontri ancora a mani nude tra giovani di destra e di sinistra e con la polizia. Poi succede qualcosa che cambia tutto, c'è piazza Fontana. 17 morti e 87 feriti, la prima strage della strategia della tensione, una cosa che non era mai accaduta prima in Italia e che sgomenta per l'orrore di quello che è successo, ma anche spaventa e indigna per quello che potrebbe succedere. Perché appare chiaro fin dall'inizio, come poi verrà provato anche giudiziariamente, che responsabili della strage sono alcuni gruppi neofascisti di estrema destra e che a coprirli, a favorirli, ci sono stati settori importanti dello Stato, come parte dei servizi segreti. Per molti la strage di piazza Fontana e tutto quello che segue sono la prova che questo Stato e questa classe politica non sono affidabili. Per molti questo significa la perdita dell'innocenza. Sono in molti che da adesso cominciano a pensare male, ad avere paura. Paura che la democrazia sei in pericolo. Paura del colpo di Stato, paura del golpe. Tutto questo ha una data, il 21 aprile del 1967. Fino a quel momento nessun paese europeo democratico, dal 1945 in poi, aveva conosciuto il ritorno a una dittatura. Il 21 aprile del 67 quello che sembrava impossibile accade. In Grecia si afferma un colpo di Stato militare che distrugge le libertà democratiche e impone un regime di tipo fascista. Quasi in contemporanea, qualche settimana dopo in Italia, viene rivelato il cosiddetto colpo di Stato del luglio del 64 attribuito al generale De Lorenzo. In realtà le cose non stanno esattamente così, ma un'opinione pubblica scioccata dal colpo di Stato dei colonnelli legge quella vicenda come il pericolo anche in Italia di un regime militare. Il livello dello scontro comincia ad alzarsi, tra destra e sinistra, tra destra, sinistra e forze dell'ordine. Nel dicembre del 1970 a Milano c'è una manifestazione per il primo anniversario della strage di Piazza Fontana. Scoppiano incidenti, la polizia carica e un agente spara un candelotto lacrimogeno contro il petto di uno studente, Saverio Saltarelli, che muore. Nel giugno del 71 muore un attivista del PRI, Michele Guaresi, ucciso da un agente di polizia. Nel marzo del 1972, durante una manifestazione a Milano, un agente spara un candelotto lacrimogeno che colpisce un pensionato che passava di lì per caso, Giuseppe Tavecchio, e lo uccide. Pochi mesi dopo, in maggio, a Pisa, durante un'altra manifestazione, un gruppo di agenti di polizia picchia un militante anarchico, Franco Serantini, e lo uccide. Nel febbraio del 1973, a Napoli, un altro candelotto lacrimogeno uccide uno studente di 19 anni, Vincenzo Caporale. Il mese prima, in gennaio, a Milano, c'era stata un'assemblea all'Università Bocconi, ma il rettore non la vuole e chiama la polizia. Tra gli studenti ce n'è uno che si chiama Roberto Franceschi. Roberto Franceschi viene ucciso con un colpo che è sparato, mentre ci stiamo ritirando dopo uno scontro con la polizia, stiamo scappando, è il termine giusto, ne vi è vergogna ad usarlo, e infatti viene colpito alla nuca, mentre un operaio, Piacentini, viene colpito in un gluteo. Ovviamente Piacentini si salva ed è ben vivo e vegeto tuttora. Franceschi morì nel corso della notte dopo una straziante agonia. Il 12 aprile 1973 invece è un giovedì e in via Bellotti a Milano, vicino a Piazza Tricolore, c'è la nebbia. Ma non è nebbia vera, non è quel nebbione che ha reso famosa Milano negli anni 50 e 60. Questa è la nebbia degli anni 70, è la nebbia dei lacrimogeni sparati e della polizia. Questa volta a manifestare sono i fascisti. Doveva esserci una manifestazione indetta dal fronte della gioventù e dalla MSI, con un comizio di Ciccio Franco, uno dei leader dei Boi a chi molla, uno degli animatori della rivolta di Reggio Calabria. Ma temendo disordini all'ultimo momento, siamo troppo vicini al 25 aprile, il prefetto l'ha vietata. Centinaia di giovani di destra, tra cui molti San Babilini, i neofascisti che frequentano Piazza San Babila, in centro, si ritrovano in Piazza Tricolore e si trovano davanti centinaia di poliziotti e di carabinieri. Gli scontri durano ore, con 35 feriti, soprattutto tra le forze dell'ordine. C'è un gruppo di neofascisti che ha tre bombe a mano, tre SRCM, bombe a mano che i militari usano per esercitazione e che uno di loro ha recuperato il giorno prima, sepolte sotto un traliccio. Sono bombe da esercitazione, ma fanno male lo stesso. Una esplode sopra il tetto di un'adicola e le schegge feriscono alcune persone. Un'altra viene lanciata contro la polizia, ma non esplode. La terza ce l'ha un estremista di destra che si chiama Vittorio Loy. Loy lancia la bomba che colpisce un agente che sta tenendo sollevato il braccio per tenere alzato lo scudo. Istintivamente l'agente stringe il braccio al petto, bloccando la bomba, che gli esplode in faccia e gli sfonde il torace. L'agente Antonio Marino, 23 anni, 90 mila lire al mese di stipendio, muore sul colpo. Ricordo, ero nell'aula 201 dell'Università Statale di Milano. Sapevamo che c'era una manifestazione fascista e quindi pronti a difendere la statale. Improvvisamente entrò un compagno, uno di quelli che noi usavamo come staffetta che il motorino controllava la situazione e con un viso visibilmente alterato, perché lui stesso si rendeva conto che la cosa era una novità, disse che i fascisti hanno ucciso un agente, hanno buttato una bomba a mano. Si creò immediatamente tra tutti un grande stupore, perché fino a quel punto, fino a quel momento, sostanzialmente i fascisti erano alleati della polizia, facevano il lavoro di provocazione, il lavoro sporco, ma sostanzialmente non si contrapponevano alla polizia. E lì capimmo, seppur confusamente, che c'era un nuovo salto di qualità. Non ci si scontra soltanto con i carabinieri e i polizotti della celere, ci si scontra anche tra giovani di destra e di sinistra. Da una parte il movimento studentesco, la FIGC, lotta continua, avanguardia operaia, potere operaio e poi, più avanti, anche autonomia operaia. Dall'altra, il fronte della gioventù, il FUAN, avanguardia nazionale, ordine nuovo. I giovani di sinistra sono più numerosi, molto più numerosi, ma quelli di destra sono più aggressivi e meglio organizzati e, almeno in questi primi anni, sembrano godere di una certa disattenzione da parte delle forze dell'ordine. Soltanto nel 1971 le aggressioni squadristiche sono 700, tra pestaggi, accoltellamenti e devastazioni di sedi. L'intolleranza politica assume sfumature da film dell'orrore, come nel 1973 a Milano, con Franca Rame, che assieme a Dario Fossi è sempre impegnata politicamente, che in quegli anni è impegnata in alcuni spettacoli teatrali di forte denuncia. Franca Rame sta passeggiando per via Nirone, a Milano, quando viene affiancata da un furgoncino con dentro cinque neofascisti che la obbligano ad entrare e la violentano ripetutamente. La confessione di uno dei neofascisti e la testimonianza di un ufficiale dei carabinieri in seguito affermeranno che a suggerire quell'azione sarebbero stati alcuni alti ufficiali dei carabinieri della divisione Pastrengo di Milano. A volte però ci scappa il morto, come a Carlo Pinace, vicino a Reggio Calabria, nel 1971, quando un neofascista spara a Carmelo Iaconis, uccidendolo, o a Catanzaro, quando un gruppo di militanti della sinistra, che sta manifestando davanti a una sede dell'MSI, viene colpito da un lancio di bombe a mano che uccidono Giuseppe Malacaria. O come a Parma, nel 1972, quando Mariano Lupo, un militante di lotta continua, viene ucciso a coltellate davanti a un cinema da un militante dell'MSI. Come a Catanzaro, nel 1972, quando Fiore Mete, un contadino di 62 anni, viene ucciso da alcuni neofascisti durante una discussione politica. O a Faenza, in provincia di Ravenna, nel 1973, quando un bracciante agricolo, Adriano Salvini, viene ucciso da alcuni neofascisti. Nel frattempo, c'è stata la strage di Gioia Tauro, nel luglio del 1970, c'è stata la strage di Peteano, nel maggio del 1972, ci sono state le bombe sui treni per Reggio Calabria, in ottobre, e c'è stato un tentativo di colpo di Stato, il golpe borghese, nel dicembre del 1970, e un altro, quello della Rosa dei Venti, nel 1973. Ma i morti non stanno soltanto a sinistra, e le aggressioni individuali, i pestaggi e gli accoltellamenti, non vengono praticati soltanto da quelli di destra. Claudio Falvella ha 19 anni, ed è il vicepresidente del FUAN di Salerno. Nel luglio del 1972, mentre sta tornando a casa assieme ad un altro giovane missino, si scontra con alcuni militanti anarchici. Carlo Falvella viene colpito da due coltellate e muore sul colpo. L'antifascismo militante parte con una pratica assolutamente difensiva, come l'esigenza per esempio dei servizi d'ordine per proteggere i cortei dalle aggressioni squadristiche, constatando che la polizia invece non assicura questo genere di difesa. E in questo senso devo dire che non è una prassi solo delle organizzazioni dell'estrema sinistra. Anche il Partito Comunista Italiano, anche i sindacati, la CGL, la CISL, la UIL, le ACLI, organizzavano normalmente servizi d'ordine di autodifesa delle proprie manifestazioni. In un secondo momento la parola antifascismo militante inizia ad assumere un altro significato di natura offensiva, cioè il tentativo di debellare l'avversario, di metterlo in condizioni di non nuocere, di prevenirne la violenza attraverso una propria violenza. Lo chiamano antifascismo militante. Nasce dai valori dell'antifascismo e dall'esperienza storica della resistenza. Cresce con la paura del golpe dopo Piazza Fontana e poi si trasforma, si radicalizza, tanto che qualcuno vorrebbe chiamarlo antifascismo militare. Protagonisti dell'antifascismo militante sono i servizi d'ordine del movimento, che dalla metà degli anni 60 nascono per proteggere i cortei dalle aggressioni dei neofascisti e della polizia. Gruppi con nome come Settimo Katanga, Limpiao, Rosso 1. Sono i servizi d'ordine di potere operaio, di autonomia operaia, di lotta continua. Alcuni si trasformano. I membri dei servizi d'ordine cominciano a vedersi regolarmente, ad armarsi e a prepararsi allo scontro, a darsi una struttura più regolare, più autonoma dai movimenti, in grado di prendere decisioni indipendenti e sulle azioni da compiere. Alcuni, piano piano, diventano semiclandestini. Nei cortei si sentono slogan agghiaccianti, come ogni fascista come falvella, con un coltello nelle budella. Oppure come i covi fascisti si chiudono col fuoco, con i fascisti dentro se no è troppo poco. Oppure come la resistenza ce l'ha insegnato, uccidere un fascista non è un reato. Sono parole brutte. E quando le parole sono brutte, non sono mai soltanto parole, perché poi alla fine le cose succedono davvero. Come il 16 aprile 1973, il giorno del rogo di Prima Valle. Che cosa ha visto esattamente? Le fiamme dei ragazzi che uno l'altro, il grande, spegneva il fuoco al piccolo. A versare sulla porta dell'interno 5 in cui abita la famiglia Mattei, la benzina che brucia tra Vivi, Virgilio e Stefano, sono stati tre giovani di potere operaio. Due di 20 anni, Achille Lollo e Marino Clavo e uno di 30, Maglio Grillo. Hanno appiccato il fuoco e poi hanno lasciato un cartello in un chiusino, un cartello di rivendicazione firmato Brigata Tanas, guerra di classe. Il Tribunale, dopo un iter giudiziario durato 14 anni, condannerà Lollo, Sclavo e Grillo a 18 anni per omicidio colposo e incendio doloso. Loro però al momento della sentenza definitiva non ci sono, sono all'estero latitanti e ci resteranno abbastanza da tornare liberi, perché se passa abbastanza tempo senza che la pena sia eseguita, questa cade in prescrizione e non si esegue più. Articolo 172 del Codice Penale. Gli autori del rogo di Prima Valle sono liberi. La strage di Prima Valle è una cosa completamente diversa, perché lì non si tratta di difendersi da un'aggressione di fronte a una scuola o di fronte a una fabbrica e non è nemmeno uno scontro con i fascisti, sia pure offensivo. È un'azione criminale che ammassa un ragazzo a un bambino. Quindi evidentemente la strage di Prima Valle non è minimamente riconosciuta dal movimento, viene sentita come una cosa atroce ed estranea e innesca naturalmente dei percorsi di riflessione, mi ricordo anche dentro il potere operaio, proprio perché era completamente fuori, era un'altra cosa rispetto all'uso della violenza che veniva considerato legittimo o necessario. La violenza si radicalizza. Saltano fuori regolarmente i caschi, le chiavi inglesi, i coltelli, i anche le idee si radicalizzano, si radicalizzano i discorsi, gli atteggiamenti, anche gli abiti assumono una connotazione politica. Destra e sinistra si distinguono dalle idee che professano, ma anche da come le indossano. Immaginiamo un'auto alle porte di Milano, una Meari, una piccola decapotabile della Citroen che sembra una jeep militare, oppure una Mini Mimor. Dallo stereo escono i bassi pulsanti di un brano da discoteca, oppure storia di un SS della Compagnia dell'Anello, o nel suo nome degli Amici del Vento. Dai colli dell'Eterna ritornino i cavalli che portano gli eroi di questo mondo stanchi. Ad ascoltare la musica nella Mini Mimor ci sono quattro ragazzi con i capelli corti e le basette rasate. Indossano impermeabili con le spalline e giubbotti di pelle nera. Portano stivali da cowboy stile western con la punta e indossano occhiali Ray-Ban a goccia, quelli dei piloti americani. Sul cruscotto della Mini Mimor c'è un giornale Linea, oppure la copertina illustrata di una rivista in bianco e nero, la voce della Fogna. Ecco, questi sono i fasci. Oppure immaginiamo un'altra auto, sempre alle porte di Milano. Da Omangianastri esce la voce di Demetrio Stratos degli Aria, oppure le note latineggianti degli Intillimani, che cantano il Pueblo Unido, la Massa Ravensido. Oppure la voce rocca di Francesco Guccini, o quella di Paolo Pietrangeli, che canta con pezzo. Dentro ci sono quattro ragazzi con i capelli lunghi e la barba. Indossano un eschimo o giacconi di lana. Portano lunghe sciarpe al collo e calzano scarpe tipo Clark, di solito non quelle originali. Sul cruscotto dell'R4, o nella tasca dell'eschimo, c'è un giornale dal titolo in rosso, Lotta Continua, oppure Il Quotidiano dei Lavoratori. Ecco, questi sono i rossi. Immaginiamo che le due auto arrivino a Milano, assieme, affiancate, ma senza vedersi. Una, quella dei Fasci, attravesse il centro e arriva fino a Piazza San Babila. L'altra, quella dei Rossi, arriva fino a Quarto Giaro. E attenzione a non sbagliarsi, perché se no è un guaio. Le città, per chi fa politica in un certo modo in quegli anni, sono divise a zone, sono a macchia di leopardo. Ci sono zone rosse e zone nere, che sono vietate ai rispettivi avversari. Diciamo che c'era una cintura rossa, che erano tutti i quartieri popolari, che erano totalmente liberi, almeno per quanto mi riguarda. Erano liberi da fascisti, da iniziative della destra, della destra estraparlamentare e parlamentare. Poi c'erano però i quartieri storicamente di destra, come Balduina, Prati, la parte di Pia Ottaviano, Piazza Risorgimento, Vigna Clara, insomma questi. Il problema è quello della violenza, una violenza insita al concetto stesso di rivoluzione, sia da una parte che dall'altra, e quindi accettata da tutte e due le parti. Quelli infatti sono gli anni di piombo, sono gli anni del terrorismo. Ci sono le Brigate Rosse che sequestrano magistrati e dirigenti d'azienda, che prima gambizzano e poi cominciano ad uccidere. Ci sono i NAP, c'è prima linea. Le organizzazioni che praticano la lotta armata passano in pochi anni da 28 a 91. Ma non c'è soltanto la violenza organizzata del terrorismo, c'è anche una violenza quotidiana, una violenza diffusa, che oppone i giovani di destra e di sinistra, in una logica che non è più quella dell'avversario politico, ma quella del nemico da abbattere, da cancellare dalla faccia della terra. Per ragazzi che hanno 15 anni nel 76-77 hanno ragione tutti e due, nel senso che tutti e due percepiscono, a secondo che la scuola sia più di destra o più di sinistra, o che il quartiere dove abitano sia un quartiere più considerato più di destra o più di sinistra, percepiscono comunque l'altro come avversario, ma ancora di più lo percepiscono come nemico assoluto, inumano. Ma non c'è soltanto la violenza nei movimenti della prima metà degli anni 70. Il ciclo di proteste, iniziato nel 68, ha portato a riforme importanti nel campo del lavoro e nel costume, come la legge sul divorzio. Ha introdotto nuove tematiche, come quelle legate all'ecologia, ai diritti delle donne, alla scuola. Ha introdotto nuovi movimenti sociali. Ma la violenza c'è. Si intende a descrivere gli anni 70 come un periodo in cui due bande di matti, magari una più consistente e l'altra meno, passavano le loro giornate ad aspettarsi sotto casa. Le cose non sono, non andarono così. Ci sono dei fattori che hanno determinato quel clima e fattori che hanno determinato anche la fine di quel clima. Intanto la prospettiva storica che determinò il deterioramento dei rapporti fra giovani di destra e di sinistra sta tutta in una lettura politica. Non è soltanto uno scontro tra folli, o almeno non soltanto. È l'espressione di un conflitto, di un disagio sociale, di un problema politico. Nell'Italia di allora ci sono molti problemi e molte delusioni. A sinistra, per esempio, c'è la sconfitta elettorale dei partiti di estrema sinistra. C'è il golpe militare in Cile del 73, che dimostra come sia difficile per un partito di sinistra prendere il potere nell'area occidentale. C'è il PC, che manca il sorpasso elettorale con la democrazia cristiana. C'è la politica del compromesso storico, che progressivamente allontana sempre di più il partito comunista dai movimenti. A destra c'è il movimento sociale italiano, che viene escluso dall'arco costituzionale e del quale molti chiedono lo scioglimento, fino alla messa sotto inchiesta del segretario Giorgio Almirante. C'è una teoria che viene usata dai partiti di governo per spiegare l'ondata di violenza politica di quegli anni. È la teoria degli opposti estremismi. I giovani di estrema destra e quelli di estrema sinistra sarebbero equivalenti e ugualmente pericolosi per la stabilità democratica, che va rafforzata, rafforzando i partiti di centro. È una teoria che nasce dai rapporti dell'ufficio affari riservati, uno dei servizi segreti, diretto da Federico Umberto D'Amato, uno dei protagonisti degli anni di piombo e della strategia dell'attenzione. Se il conflitto sociale c'era, tu appunto avevi continuamente aggressioni da una parte e dall'altra, e quindi rappresaglie, e non c'era modo di fermarla. Perché gli stessi fascisti come noi, sia pure d'altra, erano un frutto di quello scontro sociale, che era dei motivi, non era un gioco. Ragazzi, la via pal dice perché non vi fermate? Ma la violenza c'è ed è una violenza che genera altra violenza, in una spirale che sembra impossibile interrompere. Nel febbraio del 75 a Roma si apre il processo per il rogo di Prima Valle. Sul banco degli accusati c'è soltanto Achille Lollo, perché Maglio Grillo e Marino Clavo, lo abbiamo visto, sono latitanti da un pezzo. È un processo particolare che suscita un'enorme ondata emotiva. Due ragazzi bruciati vivi in quel modo, due ragazzi di una famiglia di destra uccisi da ragazzi di sinistra. Una parte che manifesta perché vuole i colpevoli in galera e l'altra perché li ritiene innocenti e li vuole i liberi. Lollo con una corda al collo si grida da una parte, Lollo libero si grida dall'altra. 24 febbraio 1975, Corte d'Assise di Roma. Prima udienza. Noi arrivammo la mattina prestissimo, avevamo durante tutta la notte delle staffette che ci avvertivano sui movimenti intorno a Piazzale Clodio. Arrivammo prestissimo utilizzando come base di smistamento, come base logistica la sezione di via Ottaviano, l'angolo di Piazza Risorgimento. Per cui successe che quando cominciarono ad arrivare, prima in ordine sparso, poi c'era un corteo organizzato da parte della sinistra, soprattutto gli autonomi quelli che capeggiavano la manifestazione, si trovarono di fronte a una situazione che non si aspettavano e che per loro era inedita, cioè il tribunale presidiato da quelli di destra. Ci furono prima una serie di piccoli episodi di violenza individuale. Poi quando arrivò il corteo ci fu uno scontro frontale che avvenne dove prima c'era un distributore, il distributore andò addirittura a fuoco durante lo scontro, ci fu scambio di Molodov da una parte e dall'altra. Il primo giorno si concluse di nuovo con una vittoria sul campo, uso questo termine orribile per farmi capire della destra. Il giorno della seconda udienza gli scontri non si ripetono. I due schieramenti si fronteggiano senza attaccarsi, come per studiarsi. Anche il terzo giorno non succede niente, anzi, sembra che la tensione si stia attenuando. Si è anche alzato il livello medio dell'età delle persone che assistono al processo. Ma il quarto giorno no. Il quarto giorno è il 28 febbraio ed è diverso. Arrivò il corteo dell'autonomia. Stavolta era un corteo molto inquadrato, molto armato. Io non dimenticherò mai più la scena di quello che guidava il corteo che aveva un'ascia in mano e l'alzava sopra la testa, spranghe, chiavi inglesi. Noi non avevamo nulla, anche perché noi eravamo andati per entrare dentro il tribunale. Quindi anche volendo non avremmo potuto avere nulla addosso perché all'ingresso del tribunale c'era ovviamente la perquisizione. E indietreggiamo di fronte a questo corteo fino a superare lo slargo che c'è davanti al tribunale e ci siamo schiacciati contro la porta del tribunale. Credo che siamo tutti e 15 vivi solo per un motivo, perché il gruppone, il corteo che stava arrivando si fermò sull'angolo, convinti che dietro l'angolo ci fosse il nostro gruppo di copertura che li aspettava. Questi secondi di esitazione hanno dato il tempo a un sotto ufficiale della polizia che era all'interno, che capiva la gravità della situazione e si assunse la responsabilità di farci entrare. All'uscita, anche per tornare verso il nostro punto di raccolta che era Piazza Risorgimento, chiamavamo con il telefono a gettoni, a gruppetti ci venivano a prendere con le macchine nella parte sopra al tribunale verso la collina di Montemario che era meno esposta. Arrivati poi in Piazza Risorgimento vedemmo che c'era un clima surreale, era tutto il traffico bloccato, un silenzio assoluto, rotto solo dalle sirene delle ambulanze e della polizia che stavano arrivando in quel momento. Io scesi dalla macchina, percorsi la strada, una strada che incrocia via Ottaviano, arrivato sull'angolo c'era un gruppo di persone ferme e c'era un mio amico, una delle persone che stava con me quella mattina, mi avvicinai a lui e chiesi cosa era successo perché non sapevo neanche se era il caso di stare là, di esporsi, non capivo e lui mi disse sembra che abbiano ammazzato il greco. A quel punto mi sono avvicinato alla sezione, stava in quel momento arrivando l'ambulanza e caricavano Mantagas c'era ancora tracce del suo cervello sull'asfalto. Il greco è Mikis Mantagas, uno studente di 22 anni che è venuto dalla Grecia in Italia per fare l'università, si è iscritto al FUAN e frequenta la sede dell'MSI di via Ottaviano. Gli scontri si sono estesi con una serie di iniziative da parte dei collettivi autonomi che hanno per oggetto proprio la sede di via Ottaviano che si trova nel seminterrato di un palazzo. Gli assalitori incendiano alcune auto nella strada vicina, la polizia interviene e un'altra colonna attacca la sede dell'MSI a colpi di bottiglie Molotov. I ragazzi della sezione si chiudono dentro e quando escono gli autonomi si stanno allontanando lungo via Ottaviano, ma non tutti. C'è un piccolo gruppo che è rimasto all'angolo e che comincia a sparare. Michi Smantakas viene colpito alla testa e muore. Io ricordo perfettamente anche le mie emozioni personali di quei minuti e di quelle ore. La prima reazione immediata fu quella che ormai tutto era perduto, nel senso che i limiti si erano persi e quindi la risposta fu sul posto che qualsiasi cosa si muoveva che assomigliasse a un comunista veniva aggredito. C'è uno slogan che si gridava in certi cortei dell'estrema sinistra, AZ36 fascista dove sei. L'AZ è una marca di chiavi inglesi, uno strumento di lavoro per gli operai delle ufficine o un'arma impropria per i servizi d'ordine dei cortei, un'arma che può anche uccidere. Il 13 marzo 1975, verso l'uno e un quarto, la signora Anita sta tornando a casa dopo essere andata a prendere la figlia a scuola e vede un sacco di gente sul marciapiede, poco più avanti, all'angolo della strada. Per terra c'è il motorino di suo figlio Sergio. Poi una vicina le prende di mano la bambina e altri la portano via. Cos'è successo? E' successo che Sergio Ramelli, che a 19 anni fa lo studente in un istituto tecnico ed è scritto al fronte della gioventù, sta tornando a casa e ha appena legato il motorino all'angolo della strada, quando due ragazzi si staccano da un gruppetto di otto e puntano diritti verso di lui. Nel pezzo di strada brevissimo che ci separava da quel ragazzo, lui ci vide e io vidi lui e quello fu per me il momento più tremendo, che ancora rivivo adesso, perché in quel momento io lo vidi negli occhi e provai molte emozioni. Una delle emozioni era quella di dire lasciamo perdere, andiamo a cenere subito, non si può. Non si può perché in quel momento mi ero reso conto che una cosa erano i fascisti idealizzati come simbolo e un'altra cosa era il ragazzo che avevo di fronte, che era praticamente un mio poetaneo. Ma qui inizia la mia colpa, credo la mia colpa più grossa, quella di aver comunque continuato, di aver fatto appello a quell'altra forza che c'era in tutti noi, che era la forza dell'ideologia e quindi di andare avanti. Mi ricordo che lui mi mostrò il viso, ma io non ebbi la forza di colpirlo al viso perché avevo paura di provocargli uno occhio, per cui cercai di colpirlo al capo in modo da stordirlo, perché quella era la cosa che si era prefissato di fare, stordirlo. L'Az36 pesa 3,5 kg. Sergio Ramedi si copre la testa con le mani, ma la chiave inglese lo colpisce sfondandogli il cranio. Viene portato in ospedale dove subisce un intervento di 5 ore. Resta in agonia per 47 giorni e poi muore. Meno di un mese dopo, a Milano, muore Claudio Varano. C'è stata una grossa manifestazione per il diritto alla casa a Milano, con un corteo al quale hanno partecipato in molti. Ci sono alcuni giovani della MLS, il Movimento dei Lavoratori per il Socialismo, che stanno tornando a casa, quando in Piazza Cavour si scontrano con alcuni neofascisti di avanguardia nazionale. C'è un'auto, una mini minor, che resta coinvolta negli scontri. È da lì dentro che partono alcuni colpi di pistola verso i giovani della MLS. Claudio Varalli resta a terra, colpito alla nuca. Da allora, in certi cortei della destra, si comincerà a gridare 10, 100, 1000 Varalli per vendicare Sergio Ramelli. 16 aprile, a Milano, muore Claudio Varalli. Già il 17, il giorno dopo, sempre a Milano, succede un'altra cosa. C'è un corteo enorme, che si è formato per protestare per la morte di Claudio Varalli e che vuole raggiungere Piazza Cavour, dove è stato colpito il ragazzo. Ma arrivati all'altezza di Via Mancini, parte del corteo Devia per attaccare la sede dell'MSI, protetta da un cordone di poliziotti. Ci sono scontri e all'improvviso da Piazza 5 giornate arrivano due colonne di camio dei carabinieri, che attaccano i manifestanti da dietro, spazzando le strade e i marciapiedi, come faceva la cavalleria una volta o come faceva la Celere negli anni Sessanta con le camionette. Solo che questi sono camion, che puntano diritti verso la gente per farla scappare. Uno dei camion sta correndo lungo i marciapiedi quando all'improvviso si trova davanti il palo dell'orologio. Il carabiniere sterza bruscamente e investe un giovane insegnante di 26 anni, Giannino Zibecchi, uccidendolo sul colpo. La cosa fu impressionante perché il cervello gli uscì completamente dal cranio e giaceva per terra. Per cui c'era questa scena che ho rivisto a Genova con Carlo Giuliano e dei poliziotti che circondavano il cadavere di Zibecchi per non farlo fotografare o non so per quale ragione. Quello fu un fatto durissimo. Nei cortei della sinistra si grida, le nostre bandiere oggi sono a lutto, pagherete caro, pagherete tutto. E compagni assassinati ve lo giuriamo, ogni fascista preso lo massacriamo. Pagherete caro, pagherete tutto, le nostre bandiere oggi sono a lutto. Compagni assassinati ve lo giuriamo, ogni fascista preso lo massacriamo. Lo stesso giorno in cui a Milano muore Giannino Zibecchi, a Torino, un iscritto alla Cisnal, il sindacato di destra, spara a Tonino Miciche, un dirigente di lotta continua di 25 anni, e le uccide. A Firenze, durante una manifestazione, la polizia spara e uccide Rodolfo Boschi, un militante del PC. Nel maggio del 1976 viene ucciso Luigi De Rosa, della FIGC. C'è un comizio dell'MSI a Sezze Romano, in provincia di Latina. Lo tiene un elemento di spicco dell'MSI, il deputato Sandro Saccucci, ex paracaduttista, uno dei fondatori di Ordine Nuovo, vicino al principe Junio Valerio Borghese. Scoppiano disordini. Saccucci e i suoi sono costretti a scappare, montano in auto e qualcuno si apre la strada sparando. Luigi De Rosa, che ha 19 anni, muore colpito da un proiettile. Ho messo a scagliare qualche sasso, poi presso il sasso, sono messo a sparare con le pistole. Ecco, ma secondo lei chi è che sparava con le pistole? Chi ha visto lei? Ho visto i massini. Ma è a Milano, il 25 maggio 1975, che avviene uno dei delitti più assurdi, se ci può essere un delitto più assurdo di un altro. Alberto Brasili è un giovane di 26 anni, che lavora in una ditta di antifurti e frequenta una scuola serale presso un istituto tecnico. Non è un attivista di qualche gruppo particolare, Alberto, è soltanto un giovane di sinistra che ha partecipato a qualche manifestazione per il diritto allo studio. Quella sera e domenica è uscito con la fidanzata, Lucia, e sta tornando verso casa. L'errore che fanno è quello di passare dal posto sbagliato davanti alle persone sbagliate. Il posto sbagliato è Piazza San Babila. Le persone sbagliate sono cinque neofascisti, cinque sanbabilini, che notano qui due giovani e vedono subito che sono di sinistra, soltanto di sinistra, giusto per come sono vestiti. Tra l'altro hanno anche sfiorato un manifesto dell'MSI e questo i cinque sanbabilini lo hanno preso come un'offesa. Seguono i due ragazzi fino in via Mascagni e quando trovano il posto giusto li aggrediscono. Lucia, che li sente arrivare da dietro, si volta e si prende due coltellate da uno dei cinque. Gli altri quattro si accaniscono con i coltelli su Alberto e lo massacrano. In ospedale Lucia si salva, Alberto invece non ce la fa e muore. C'è un bel film di Carlo Lizzani, San Babila ore 20, un delitto inutile, che racconta una storia come questa. In quegli anni si può davvero morire per come si è vestiti, oppure bruciati vivi da una molotov in macchina mentre si suona i clacson per una vittoria elettorale, come a Napoli, Iolanda Palladino nel 1975, oppure mentre si sta attaccando un manifesto all'università, come a Milano, Gaetano Moroso nel 1976. Ma non sono soltanto i giovani di sinistra ad essere aggrediti e uccisi. La gioventù di destra era numerosa quando faceva i cortei, era numerosa quando dava vita a delle grandi iniziative politiche. Ma noi militanti eravamo tre, quattro, cinquecento persone quando eravamo tanti. E quindi a mezzanotte arrivava la telefonata alla sezione del Movimento Sociale di Via Assarotti, bruciata, un'altra sera presa l'assalto a colpi di arma da fuoco. Allora a mezzanotte chi c'è c'è si corre, si va lì a difendere quella sede dove tra l'altro c'erano molte persone anziane. Pomeriggio ti chiamavano da Monteverde Vecchio dove c'erano dei ragazzi di 16-20 anni, giovanissimi, perché sono stati presi d'assalto con accette molotov e siamo arrivati lì per salvare il salvabile. C'è un ragazzo, uno studente di 16 anni che si chiama Mario Zicchieri, ma gli amici lo chiamano Cremino perché è piccolo. Si è avvicinato alla destra dopo l'uccisione di Michis Mantacas e adesso frequenta i giovani dell'MSI. È un pomeriggio di ottobre del 1975. Mario Zicchieri assieme ad altri ragazzi, molto giovani come lui, e sta prendo la sede dell'MSI di via Erasmo da Gattamelata nel quartiere Prenestino, a Roma. C'è un'auto che passa per la strada, alle loro spalle. L'auto rallenta, il finestrino si abbassa e spunta un fiscile a canne mozze che spara sul gruppo. Mario Zicchieri resta ucciso e con lui viene ferito un altro ragazzo di 15 anni. Il giorno dopo scatta la rappresaglia. Un gruppo di no fascisti attende sotto casa un dirigente di lotta continua e quando lo vede arrivare lo aggredisce e lo picchia a morte. Ma non è lui, si sono sbagliati. È uno studente che si chiama Antonio Corrado e che ci assomiglia molto ma non c'entra niente. A Milano, invece, viene ucciso Enrico Pedenovi, consigliere comunale dell'MSI. Il 29 aprile 1976 è uscito di casa per andare al suo studio. Ha in mano un fascio di giornali che ha preso all'idicola quando due persone si avvicinano e gli sparano addosso, ammazzandole. E poi ci sono le bombe di ordine nero, tante bombe. E c'è la strage di Piazza della Loggia a Brescia, il 28 maggio 1974, quando durante un comizio sindacale antifascista una bomba uccide otto persone e ne ferisce 94. C'è la strage dell'Italicus del 4 agosto 1974, quando una bomba esplode nella carrozza numero 5 del treno Monaco-Roma all'altezza della stazione di San Benedetto-Valdisambro, provocando 12 morti e decine di feriti. E poi c'è il golpe bianco e il tentativo di colpo di stato, di cui è stato accusato Edgardo Sogno. Immaginiamo un'auto, una Citroen 2 cavalli che passa davanti ai portici di via Zamboni, a Bologna. Sono i portici delle università e i muri sotto le arcate sono completamente coperti da manifesti, murales e scritte. Decreto lo stato di felicità permanente, Cossiga Boia, Cossiga, il ministro dell'interno, con la Cappa, e il comitato autonomo Ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi. Dall'autoradio esce una voce strascicata che canticchia a lavorare con lentezza, la sigla di Radio Alice, che annuncia un'assemblea dei compagni di San Donato per decidere l'occupazione di un capannone da trasformare in un centro del proletariato giovanile. È il 77, il movimento del 77. Parte dall'università, come quello del 68, e mette assieme una galassia politica che va dall'ironia dadaista degli indiani metropolitani alle rivendicazioni delle femministe, alle provocazioni dell'autonomia creativa e alle contestazioni violente dell'autonomia organizzata. Ci sono giornali come A. Traverso, con la Barretta, Zut o il Cossiga Furioso, con Rippa. Radio come Radio Alice a Bologna, Radio Cervo da Padova, Radio Popolare a Milano. Ci si trova nei collettivi per occupare le case sfitte. Si entra in gruppo al cinema o al ristorante senza pagare, si chiama autoriduzione. Oppure si entra nei negozi di lusso e si esce carichi di merci, si chiama esproprio proletario. La logica dei sacrifici, dicono, dice ai proletari la pasta asciutta e ai borghesi il caviale. Noi rivendichiamo il diritto al caviale. È in questo clima che la CGL decide di tenere un comizio di Luciano Lama all'Università di Roma il 17 febbraio 1977. Praticamente non riesce a parlare. Prima lo contestano gli indiani metropolitani che lanciano palloncini pieni di vernice colorata. Allora il servizio d'ordine del PC attacca, ma viene spazzato via da una carica degli autonomi che distruggono il palco. Luciano Lama, che ha finito in fretta di parlare mentre attorno in furia alla rissa, viene scortato fuori dall'Università. Che cosa intendete fare voi per rientrare all'Università e stabilire un contatto con queste forme di lotta? Ma noi ci siamo all'Università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'Università. C'è dissenso anche a destra. Molti giovani neofascisti non si riconoscono più nella tradizione nostalgica e nella politica d'ordine del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Nascono esperienze creative come i Campi Hobbit, dove suonano i gruppi della musica alternativa e si discute di tematiche fino a quel momento estranei alla destra, come l'ecologismo. Nascono nuove formazioni a destra dell'MSI, come Costruiamo l'Azione e Terza Posizione. Ma la violenza resta, anzi, aumenta. Il cosiddetto movimento del 77, che è il movimento dei fratelli più giovani della seconda generazione degli attivisti. Pochissimi sono i sessantottini, piuttosto sono attivisti politici che entrano in una politica già molto orientata verso lo scontro di piazza. Quindi sono molto spesso una generazione che si è politicizzata alla fine della prima metà degli anni 70 e che trova già un'immagine della politica come più scontro che confronto. Cresce il livello dello scontro. Nei cortei gli autonomi alzano la mano nel segno della P-38, ma la pistola molti ce l'hanno per davvero. Ai coltelli e alle spranghe si sostituiscono le armi da fuoco. Come dice lo scrittore Henry De Luca, la violenza si specializza. Ai cortei si spara. Si arriva un momento nel quale, anche grazie alla politica delle istituzioni, c'è un forte livellamento. C'è una legge in quel periodo, la legge reale, che stabilisce l'equiperazione fra, dal punto di vista della responsabilità penale, fra armi improprie e armi da guerra a vere e proprie. È lì che si deve compiere un salto. O a quel punto, dato che il rischio penale è lo stesso, passare alle armi da guerra o rinunciare al terreno della violenza. Polonia, 11 marzo 1977. Ci sono stati scontri all'università, tra militanti dell'estrema sinistra e il servizio d'ordine di comunione e liberazione, che si è asserragliato nell'aula di anatomia. Quando arriva la polizia, gli scontri si estendono a tutta l'università. Francesco Lorusso, che ha 25 anni ed è un militante di lotta continua, sta scappando assieme ad altri da una carica, quando grida mi hanno beccato e crolla a terra, colpito alla schiena da un proiettile sparato da un carabiniere. Francesco Lorusso muore in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Gli scontri si estendono a tutta la città di Bologna, che viene presidiata in forze da polizia e carabinieri. Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i bolognesi vedono carri armati autoblindo fermi nelle piazze della città. Roma, 12 maggio 1977. C'è una manifestazione a Piazza Navona, indetta dai radicali, per festeggiare l'anniversario del referendum sul divorzio. La Questura ha vietato tutte le manifestazioni, perché poche settimane prima, sempre a Roma, c'erano stati disordini attorno all'università. La polizia si era scontrata contro alcuni giovani dei collettivi autonomi che si erano messi a sparare e a San Lorenzo un agente di polizia, Settimio Passamonti, era stato ucciso. Ci sono centinaia di poliziotti e di carabinieri per impedire la manifestazione del 12 maggio e presto cominciano gli scontri. Tra le forze dell'ordine ci sono degli agenti in borghese, alcuni dei quali sono travestiti d'automani. Giorgiana Masi, che ha 19 anni e studia l'Iceo Pasteur, viene colpita alla schiena da un proiettile e muore durante il trasporto in ospedale. Due giorni dopo, il 14 maggio, a Milano, c'è una manifestazione per la morte di Giorgiana Masi. Autonomia operaia fa un corteo a parte che si scontra con la polizia. Gli autonomi sparano e il vicebrigadiere di polizia, Antonino Custrà, viene ucciso con un colpo in fronte. Dopo la primavera del 77, dopo il convegno di Bologna, ci fu un momento in cui il livello dello scontro si alzò all'improvviso. E questo lo dico per il fatto che si cominciava non tanto che ci si incontrava, ci si cercava e si arrivò a usare le pistole, si arrivò a fare gli attentati, si arrivò a passare con le macchine nelle piazze dove c'erano gruppi di ragazzi e sparare nel mucchio. Il 29 settembre 1977, verso le 8 di sera, una mini-minor bianca attraversa di corsa Piazza Igea, a Roma. Dal finestrino spunta una pistola che spara alcuni colpi su alcuni giovani che se ne stanno fermi a chiacchierare su una panchina davanti alla Casa Rossa, un centro sociale occupato. Elena Pacinelli, che ha 19 anni, rimane ferita gravemente. Il giorno dopo pensammo di fare un volantino per denunciare l'accaduto e un volantino di protesta a Valduina, nelle vicinanze della sede del movimento sociale, anche per dare un segnale abbastanza pubblico di individuazione dei responsabili. L'appuntamento è all'inizio di Via Medaglie d'Oro, dove si trovano in una trentina tra ragazzi e ragazze, tutti giovanissimi, il più anziano a 23 anni. Cominciano a risalire la strada distribuendo volantini e arrivano fino alla sede dell'MSI, lì tornano indietro perché è pieno di poliziotti. Ci sono poliziotti in divisa davanti alla sede dell'MSI, poliziotti in borghese e in auto lungo la strada. C'è tensione nell'aria, molta tensione. Personalmente notai che c'era un movimento dalla parte della sezione del movimento sociale verso di noi. Quello che mi colpì di più era il movimento del blindato, perché c'era un furgone della polizia, si chiamava blindato, non so se era blindato la verità, ma quei furgoni che si usavano in quegli anni, che veniva giù molto piano a fare i spenti, verso di noi. Dietro si notava un gruppo di persone, proprio dietro al furgone, di cui un paio è indivisa e gli altri secondo me urlavano perché erano sicuramente fascisti, ed era il gruppo più numeroso e questo veniva giù per il senso di marcia della Via Medaglie d'Oro in disceso. Notai anche che sul marciapiede opposto c'era un gruppetto molto più piccolo di persone che stava scendendo parallelamente al blindato. Lì io mi preoccupai un po'. Nel gruppetto ci sono due neofascisti, Cristiano Fioravanti e Alessandro Alibrandi. Sono armati, hanno due pistole, si staccano dal gruppetto, puntano verso i ragazzi e sparano. La pistola di Cristiano Fioravanti, sarà lui stesso a dirlo, si inceppa. Quella di Alessandro Alibrandi spara. Un ragazzo di vent'anni, Walter Rossi, viene colpito alla testa. A sparare a Walter Rossi erano stati Cristiano ed Alessandro Alibrandi. Era stato? Cristiano ed Alessandro Alibrandi. Questo primo morto in realtà arrivava dopo reiterati tentativi di fare il morto, cioè questo diciamo un po' cinicamente è riuscito, ma la questione era stata dentata diverse altre volte, insomma c'erano stati diversi accoltellamenti. I neofascisti spariscono tutti. I poliziotti del blindato caricano i ragazzi che gridano che ce n'è uno a terra, uno dei loro che è ferito e sta morendo. Riescono a farlo salire su un furgoncino e a portarlo all'ospedale, ma mentre sta ancora viaggiando, Walter Rossi smette di respirare. Comunque è una cosa organizzata a tavolino e come disse Cristiano Fioravanti ed è depositato in verbale, che sapevano che ci dovrebbe succedere qualcosa quella sera, per quello venivano armati, come disse che tutti sapevano che loro due erano armati. E com'è la cosa più assurda e assoluta che dieci poliziotti non hanno visto e sentino nulla. Ti inviterei a leggere le loro deposizioni. E questi poliziotti non sono stati incriminati né per falsa testimonianza né per concorso. Secondo me era un'aggressione pianificata a tavolino. La morte di Walter Rossi provoca subito un'ondata di manifestazioni antifasciste in tutta l'Italia. Circa 3.000 giovani sono usciti stamane in corteo dalle facoltà in cui erano riuniti, dirigendosi verso Piazza Bologna, poco distante dall'università, dove si trovano alcune sedi del movimento sociale. A Milano gravi incidenti hanno turbato la conclusione della manifestazione promossa da organizzazioni della sinistra extraparlamentare in seguito all'uccisione a Roma di Walter Rossi. Le immagini che vedete giungono da Torino. Verso le 10 alcune migliaia di studenti e di giovani aderenti a movimenti extraparlamentari hanno cercato di dare l'assalto alla sede del movimento sociale, ma sono stati bloccati da reparti di carabinieri e polizia. A Torino un migliaio di studenti si dirige verso l'università. All'altezza di Via Po, un gruppo di giovani col volto coperto fa eruzione in un bar, l'Angelo Azzurro, sfonda le vetrine a colpi di spranga e ci getta dentro alcune bottiglie Molotov. Nel bar ci sono due clienti, uno riesce a scappare, l'altro, Roberto Crescenzo, non ce la fa. Il 28 novembre a Bari un gruppo di neofascisti mascherati armati di spranga e coltelli attraversa la città a caccia dei militanti di sinistra. Benedetto Petrone, uno studente di 19 anni, viene ucciso a coltellate. Si chiama Giuseppe Piccolo, ha 23 anni e viene attivamente ricercato il neofascista che ieri sera ha ucciso a Bari il militante comunista Benedetto Petrone di 18 anni e ha ferito un altro ragazzo comunista, Franco Intranoddi, appena 16 anni. Un mese dopo, il 28 dicembre, a Roma viene ucciso Angelo Pistolesi. Un rapporto della controinformazione lo aveva indicato come uno dei neofascisti che avrebbe sparato al comizio di Sandro Saccucci, a Sezze Romano. Angelo Pistolesi ha 31 anni ed è iscritto alla sezione dell'MSI del quartiere portuense. Qualcuno suona alla sua porta, lui scende ad aprire e viene ucciso a colpi di pistola. Pochi giorni dopo, il 7 gennaio 1978, c'è la strage di via H. Larenzia. Sono in corso intanto le indagini per individuare i responsabili dell'assassinio dei due giovani missini Ciavatta e Bigonzetti. Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta sono appena usciti dalla sede dell'MSI di via H. Larenzia, nel quartiere tuscolano, a Roma. Sono sul marciapiede appena fuori dalla porta, seguiti da altri tre che stanno uscendo. Non si sono accorti del gruppo di ragazzi che li sta aspettando, fermi all'angolo con via Evandro. Non hanno visto la canna della mitraglietta puntata su di loro. La mitraglietta spara una raffica. Franco Bigonzetti viene colpito e cade a terra per primo. Il ragazzo che stava sulla porta viene ferito ad un braccio, ma riesce a girarsi, spinge indietro gli altri, gli fa cadere nel landrone, togliendoli dalla strada. Francesco Ciavatta è ancora sul marciapiede, troppo lontano dalla porta per rientrare e allora corre verso una scalinata che sta proprio vicino alla sedia, sale due gradini, ma la canna della mitraglietta lo segue e spara ancora. Francesco Ciavatta viene colpito alla schiena, continua a salire, scende dall'altra parte della scalinata, ma crolla a terra. Il gruppo di ragazzi che hanno sparato scappa, monta su una Renault e sparisce nel buio della sera. Franco Bigonzetti è morto, Francesco Ciavatta è ferito, riesce a dire soltanto mi brucia tutto dentro a quelli della sede che sono usciti per aiutarlo, poi muore anche lui. Gravi incidenti sono avvenuti per tutta la giornata a Roma dopo l'uccisione avvenuta ieri sera di due militanti dell'MSI da parte di un commando di giovani assassini. Ma non è finita. In poche ore, davanti alla sede di via H a Larenzia, si concentrano centinaia di giovani di destra. C'è tensione naturalmente. Ci sono i carabinieri e c'è tensione. Sono morti due ragazze di 18 e 19 anni. Sul marciapiede il sangue è ancora fresco, forse per il freddo che fa quella sera. C'è tensione. C'è una 127 dei carabinieri e ci sono alcuni giovani di destra che cominciano a prenderla a calci. I carabinieri rispondono con un fitto lancio dei lacrimogeni. Io corsi lì, con me c'era anche l'onorevole Fini. Trovare due ragazzi uccisi col secchio della colla in mano e 70, 80, 100 persone si missero in corteo per gridare la loro rabbia. Io davanti agli occhi, ma non l'ho mai più trovato, un signore sui 35 anni, stempiato fisicamente, che lanciò qualche cosa contro i carabinieri. I carabinieri spararono, questa persona non si è mai trovata e ai carabinieri non accadde nulla. Quando hanno visto che non c'è stata una reazione dopo la uccisione dei due ragazzi, reazione da partito armato, violente, hanno sparato i carabinieri in quella occasione per uccidere, perché non c'era pericolo per nessuno. Un ufficiale dei carabinieri spara e colpisce in fronte un ragazzo di 19 anni, Stefano Recchioni. Per tre giorni scoppiano disordini per tutta la città, con scontri tra i ragazzi di destra e le forze dell'ordine, lanci di bottiglie Molotov e auto rovesciate. Incendiate, come vedete, una quindicina di autovetture private e un automezzo dell'Ada. Sono stati uditi colpi di pistola e infatti cinque proiettili hanno sforacchiato una 124. Ma chi ha sparato in via H a Larenzia? C'è una ragazza che parla, nel 1987. Ai tempi della strage aveva 15 anni e frequentava l'area dell'autonomia romana. A casa di un'amica avrebbe visto alcuni giovani fare un timbro, nuclei armati per il contropotere territoriale, la sigla che poi rivendicherà la strage. Un amico le ha detto che a fare l'azione sarebbero stati Mario, Daniela e il Roscio. E questo Roscio assomiglia ad uno degli identikit che la polizia ha fatto degli sparatori. La ragazza parla e nel 1987 viene arrestato Mario Scrocca, che allora aveva 18 anni e simpatizzava per lotta continua, mentre gli altri vengono ricercati ma hanno fatto perdere le loro tracce. Mario Scrocca, nel 1987, quando viene arrestato, ha 28 anni. Fa l'infermiere, è sposato ed è padre di un bambino di due anni e non si occupa più di politica attiva da un pezzo. Viene interrogato dal magistrato. Il giorno dopo viene trovato impiccato nella sua cella. C'è una lettera, indirizzata alla moglie. Sono qui e ancora non riesco a farmene una ragione. Il tempo si è cristallizzato. Qui, se va male, non si tratta di farsi qualche mese. Qui, se il giudice decide che le accuse contro di me sono vere, sto nella merda per sempre. Ho deciso che non ho né la forza né la volontà di aspettare che questa storia si chiarisca. C'è un filo che lega la strage di via H a Larenzia a molte cose che sono successe dopo. Uno strano filo che passa attraverso un passamontagna e una mitraglietta. La mitraglietta è la Scorpion calibro 7,65 che ha ucciso Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. È un'arma da guerra, in dotazione ai paracaduttisti cecoslovacchi. Ma in quegli anni, in Italia, ce ne sono tante nelle mani dei terroristi. È con una Scorpion come quella che le Brigate Rosse hanno ucciso il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro. Ma quella che ha sparato a Dacca Larenzia è particolare. Viene ritrovata nel 1988 in un covo delle Brigate Rosse Partito Comunista Combattente e la perizia balistica stabilirà che ha sparato in altri tre omicidi. Quello dell'economista Ezio Tarantelli nel 1985, quello dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti nel 1986 e quello del senatore democristiano Roberto Ruffilli nel 1988. Un filo che parte dai nuclei armati per il contropotere territoriale e arriva fino alle Brigate Rosse e che lega quei giorni di violenza diffusa, di scontri tra giovani, a quelli del terrorismo vero e proprio. La mitraglietta, il Passamontagna. Il Passamontagna è quello di Franco Anselmi, un giovane di estrema destra che frequenta la sezione dell'MSI di Monteverde. Franco Anselmi è uno di quelli che vanno a manifestare in via H. Larenzia la sera della strage. Ha con sé un passamontagna che intinge nel sangue ancora fresco di Franco Bigonzetti. È un passamontagna particolare quello. Lo aveva addosso anche tre anni prima, quando era uscito dalla sezione dell'MSI di via Ottaviano per partecipare agli scontri con gli autonomi che attaccavano la sezione. Con lui c'era un altro ragazzo, un ragazzo greco. È Michi Smantakas. E quando viene colpito da un proiettile sparato da un autonomo, si trova proprio vicino a Franco Anselmi e il suo sangue schizza su quel passamontagna che diventa una specie di filo che lega Michi Smantakas ai morti di H. Larenzia a quelli che verranno. Perché Franco Anselmi e il suo compagno di banco al liceo, Giuseppe Valerio Fioravanti, che era anche lui in via H. Larenzia quella sera, ed altri, come Cristiano Fioravanti, Alessandro Librandi e anche la ragazza di Valerio, Francesca Mambro, anche lei in via H. Larenzia, quando hanno ucciso Stefano Orecchioni, continueranno la serie di agguati e morti ammazzati, dando vita alla stagione dei NAR, i nuclei armati rivoluzionari, e alla stagione feroce dello spontaneismo armato. A Calarenzia segna il momento in cui la destra, cioè i fascisti a Roma, hanno uno scontro violentissimo con le forze dell'ordine. Ci saranno, dopo la morte dei due Missini e di Stefano Orecchioni, ci saranno degli scontri violentissimi per tre giorni, in cui i fascisti per la prima volta spareranno contro la polizia. E questo segnò un punto di non ritorno, ovviamente. All'inizio sono i soliti scontri tra giovani di destra e giovani di sinistra, quella violenza diffusa che è arrivata fino ai banchi di scuola e che è diventata una specie di routine per chi milita in certi gruppi. Franco Anselmi viene picchiato al liceo e resta in coma per tre mesi, perdendo parte della vista. Assieme ai fratelli Fioravanti e ad Alessandro Librandi, a coltella due studenti di sinistra del liceo Tacito. Poco tempo dopo, sempre assieme, mentre presidiano una sede dell'MSI devastata in uno scontro, sparano su alcuni studenti di sinistra del liceo Fermi, ferendone uno. C'era una strategia ufficiale, che era quella del movimento sociale, che era di reagire abbastanza passivamente, cioè di prendere le botte, restituirne una piccola parte, ma senza mai esagerare. La piccola caratteristica del nostro gruppo, dettato da un'età giovanissima e dall'età...